Zagniolo saluta Roma? Tifosi divisi, meglio che un'emerita circa, poi chi arriva? Soltanto pochi giorni fa, parlare di un addio di Nicolo Zagniolo a gennaio sembrava puro fantacalcio. Invece nel giro di una settimana una cessione del numero, 22, giallorosso durante la sessione invernale è diventata tutt'altro che improbabile. Il giocatore e il suo entourage, che per rinnovare con la Roma chiedono un ingaggio da top player, 4, 5 milioni più bonus, non sono stati ancora convocati da Thiago Pinto per discutere il nuovo contratto e a questo punto stanno valutando un futuro lontano dalla capitale. Un futuro che potrebbe trasformarsi improvvisamente in presente. Sulle tracce dell'attaccante ci sono soprattutto Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund, destinazioni specialmente quelle londinesi gradite al giocatore. A complicare un'eventuale operazione però ci sia il fattore tempo che le richieste del club di Fredkin, per lasciar partire Zagniolo infatti. A Tregoria chiedono almeno 35 milioni di euro. La notizia della possibile partenza di Zagniolo, che già durante l'estate aveva agitato la piazza, ha scatenato le reazioni dei tifosi romanisti su radio e social network. Il rendimento del classe 99 da inizio stagione. Sembra aver convinto molti a scendere dal carro di Nicolò, quest'estate ero contrario alla sua cessione. Ora invece, visto il rendimento, sono assolutamente favorevole. Farebbe bene a noi e a lui scrive un utente su Twitter. Un concetto condiviso da decine di altri tifosi, scusate ma Zagniolo per 30 mln più 2 di bonus non lo vendereste? Io tutta la vita. Più aspetti e più scende il suo valore. Qualcun altro invece si augura soltanto che l'eventuale cessione dell'attaccante non si trasformi nell'ennesima serie a puntate, va bene la cessione. Ma che sia veloce e non diventi una telenovela. Fate come vi pare e basta che vi sbreghiate. Una preoccupazione condivisa da molti, temo una cessione alla Strootman. Ultimi giorni di mercato. Roma impreparata sul sostituto e, così, niente rinforzo. Ma sono tanti anche commenti di chi vorrebbe vedere l'eroe di Tirana e suo gol in finale ha consentito alla Roma di alzare la Conference League e proseguire il suo percorso alla corte di Jose Mourinho, la cessione di Zagniolo e un emerita circa. Punto. Come potrebbe essere venduto in durante un mercato che chiude tra dieci giorni, con chi lo rimpiazzerebbe la Roma. E ancora, non vi vergognate di quello che state dicendo, siete diventati come gli altri. Ma che vi ha fatto questo ragazzo, ha sempre dato tutto. Ad infiammare ancor di più la situazione è stato diretto interessato. Nella notte infatti. Zagniolo ha pubblicato su Instagram uno stralcio di una vecchia intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo, tutto ha una soluzione. Tranne la morte le parole del portoghese tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male. Punto. Un messaggio criptato. Che alimenta inevitabilmente le voci su una possibile separazione in vista tra lui e la Roma.